Questo partito deve essere il partito dell'isolano di Ischia, perché se io volevo fare un partito o se mi volevo andare a iscrivere a un partito, l'avrei potuto fare tranquillamente, anzi l'anno scorso avrei avuto strade e percorsi aperte, voglio dire qua onestamente, stesso dalla Lega, stesso da Salvini, perché trovandomi in una situazione avevo la strada spianata, ma io non voglio fare il politico e questo lo voglio chiarire, io non sono nato per fare il politico, sarò imprenditore o più, ecco il termine, sono un lavoratore, perché mi reputo un lavoratore, perché così sono stato educato dal mio padre e questo sono rimasto, oggi la mia impresa, la mia azienda e le persone che lavorano con me, questa è la mia impresa, perché se ne vanno i miei collaboratori, rimane una scatola vuota, questo movimento, questo partito come lo vogliamo definire? Io lo propongo e lo presento per il cittadino di Ischia, io non mi propongo né come sindaco quando ci saranno delle elezioni, ma sarà un movimento o un partito dove il cittadino, e quella è la mia idea, sarà il protagonista, sarà lui non più a delegare a tutti questi sindaci che anche nella conversazione di Marco ha dato ampio spazio a dimostrare quando sono lontano i politici alla vita e i problemi del cittadino, del commercio e di tutto l'altro, invece il movimento, questo partito deve essere il partito proprio dell'altra parte, di chi ci lavora, di chi ci vive, allora non confondiamo per piacere che Aldo Presutti sta creando un suo partito politico, no, Aldo Presutti le è venuta un'idea a dire facciamo il partito di noi isolani, poi dopo sarà democraticamente una volta che si è formato tutto, le persone anche a decidere chi sarà la persona leader, chi sarà la persona che si andrà a candidare come sindaco e quant'altro, ma non lo sarò io, questo ve lo posso già dire questo, la mia collaborazione sarà piena, posso essere presidiare in qualche maniera il movimento, ma la politica non è fatta per me, purtroppo senza la politica e la dimostrazione l'abbiamo ampiamente e non conti nulla, perché ho avuto occasione di parlare con tutti e anche con il Presidente della Regione, alla fine non sei nessuno, ti dice ma chi sei? Allora ho detto vabbè andiamo a creare un partito, andiamo a ufficializzarlo, però sarà ed è quello che deve essere, perché altrimenti sarebbe un flop, sarebbe un fallimento, questo dovrà essere un partito, chiamiamolo politico perché sarà un politico civico del cittadino isolano, che sarà lui a gestire, a decidere come vorrà andare avanti nel futuro, sarà partecipe quotidianamente perché sarà un partito che sarà organizzato, che la gente possa vedere, verificare, partecipare alla vita quotidiana del Comune.